Sono Marika Cassimati, sono candidata per base costituzionale sia come Presidente della Regione che come Consigliere. Base costituzionale è una vera lista civica, una lista che non ha segreterie di partito e che possono dettare il bello e il cattivo tempo per la Liguria. Siamo veramente liberi e per questo possiamo anche parlare senza problemi di contrasto alle mafie. La DIA nell'ultimo report ha indicato che l'80% del territorio della Liguria è controllato trasversalmente dalle mafie. Questo è il vero cancro che impedisce qualunque sviluppo e ha impedito fino ad oggi e i risultati li vediamo. Base costituzionale ha tanti altri temi all'attenzione in particolare mentre al centro dei programmi le persone. Ci sono molti temi che ci stanno a cuore, in particolare l'assistenza sanitaria soprattutto per le fasce più deboli, gli anziani, i disabili. Pensiamo a un'assistenza domiciliare con intervento anche della tecnologia, con la telemedicina. Siamo vicini alle donne che hanno denunciato violenze e che non hanno una propria autonomia e pensiamo a un reddito di indipendenza. Abbiamo molto a cuore il tema del dissesto idrogeologico e in particolare per contrastarlo noi pensiamo di valorizzare anche l'agricoltura, soprattutto l'agricoltura diversante, utilizzando terreni incolti e questo potrebbe essere una soluzione anche lavorativa per molti giovani o disoccupati e creare una filiera sostenibile per l'economia della Liguria. Abbiamo anche altri progetti per per la Liguria, dei sistemi di finanziamento che esulano dal contatto diretto col sistema bancario, dei progetti per quanto riguarda per esempio le spiagge libere, nel senso che la Liguria è una delle regioni che ha la maggior concentrazione di spiagge private in tutta Italia e quindi noi pensiamo che l'applicazione della Bolkistan è una migliore organizzazione del Demagno possa essere utile anche per lo sviluppo turistico. Ci sono tanti altri progetti nel nostro programma che potete andare a visionare nel nostro blog che è basecostituzionale.org e dopo che avrete letto il nostro programma sono sicura che troverete la nostra lista molto interessante e soprattutto l'unica soluzione veramente alternativa al sistema politico attuale. Voi cittadini avete la possibilità col voto di fare una rivoluzione epocale, di cambiare veramente il sistema, votate basecostituzionale per le regionali della Liguria 2020.